Arena del Sole, Teatro Stabile di Bologna, il teatro con la città intorno, Paesaggio e l'amante, due atti unici di Harold Pinter, premio Nobel 2005 per la letteratura. Forse il bar dell'albergo sarà aperto, potremmo sederci al bar, ordinare da bere? Che cosa ordinerò? E lui, che cosa ordinerò? Lo sentirò, ordinare. Sentirò la sua voce, prima mi chiederà che cosa voglio io, poi ordinerà per due. Io lo sentirò, mentre lo farà. Questa birra sa di pizzo, disse, imbevibile. Non c'è niente che non va in questa birra, disse io. E invece sì, disse lui, ho appena detto di che cosa sa. È la miglior birra della zona, disse. Sì, sì. Non è vero, disse Tizio. S'adipiscio. Mi sono alzata di scatto e sono andata verso l'oliva e in acqua. Non ho nuotato, non so nuotare. Lascio che l'acqua mi cugli. Mi sono riposata nell'acqua. Pensavo volessi andare a vedere quella mostra. Oh no, ma no, no, oggi preferisco restare qui con lui. Beh, io devo scattare. Ciao. Ciao. Credi che resterà l'amico? Eh, non lo so. Allora facciamo un essay. Va bene. Ciao. 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 Li hai fatto vedere la manda rosa? La manda rosa? Sì. No. Avrei dovuto? No, no. È che mi sembrava di ricordare che tu mi avessi detto che è appassionato di giardinaggio. Ah, sì, ma non fino a questo punto. Intrappola. Che cosa dirà il mio merito? Mi sta aspettando. Mi aspetta. Oh, io non posso uscire. Sono in trappola. Oh, ma lei non può comportarsi così. Come una donna sposata. Pensi. Pensi. Pensi a quello che sta facendo. Allora. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.